Ma che c'hai messo il timer? Ho sti capelli che non mi si stefano Non mi si si stefano Ciao di grattine Ciao di grattini Che carino così Dammi 5 Mi ha fatto male Allora Mi trovo qui con Valentina Mi sono appena fatta male sul ginocchio Mi trovo qui Anch'io Mi trovo qui con Valentina Per fare il video Si può descrivere l'amicizia con delle emoji Eh si Secondo te si può? Si Wow E quindi facciamo questo video Che abbiamo visto da Sofia Viscardi Saluta Sofia E' una mia grande fan Sofia E quindi dato che io adoro Sofia Viscardi Io ho preso questo tag Ha preso No è adorabile È veramente una ragazza Meravigliosa E niente quindi noi Dato che siamo migliori amiche Io sono più alta di Vale No praticamente dovete sapere Che io Abbiamo due sedie un po' diverse Io ho quella di legno Che alta tipo così E vale a quella tipo Da sdraio Che è così Quindi sembro alta Ed è una cosa molto piacere E poi già sono bassa No quindi Pure di uno scherzi Esatto E niente quindi facciamo questo video Dove io sceglierò tre emoji Che lei dovrà capire Cosa scelta Che stanno con la nostra amicizia E gli diamo lei Con me E quindi Iniziamo il video Questa è la scelta Valentina E secondo me L'è scelta perché Perché? Ci so Ci sono Dovete sapere che io e Valentina Siamo delle golose Sì Sì Siamo delle golose della miseria, quindi credo che l'hai scelta per questo motivo l'hai scelta per questo motivo potete vedere no beh, siamo golosi però non so perché mi sono messo a sentire siamo abbastanza golosi, esatto, tipo dovete sapere che il padre di Valentina ogni volta che torna a casa loro non è che gli dicono ciao gli dicono papà che ci hai portato le sembrano delle brave figlie a me no allora secondo me l'hai scelta vabbè questa è facile perché tutte e due andiamo alla musica ma tanto, perché tipo Valentina dovete sapere che dorme addirittura con le cuffiette quindi sì, nessuno ama la musica come Valentina credo, veramente Valentina è assurda si mette le cuffie, quando vado a dormire da lei succede questa cosa io rimando wow, Valentina si mette le cuffie tutta comune e non le toglie fino alla mattina dopo, cioè lei dorme con la musica ma non è che cambia musica perché è sempre la stessa perché mentre dormi cerchi di dormire ma senti quella musica oddio non mi addormenterei io sì, perché tanto la metto a basso come c'hai mica la metto a... no, la sentivo io digi un po' che musica è perché è veramente figa allora quando dormite con lei cioè quando lei stava dormendo a casa mia la canzone era l'amore dei suonare è bellissima è una cosa bellissima e poi vabbè non so che è stata quella canzone che hanno fatto per Paul Walker Paul Walker come cazzo ho detto oddio andiamo alla musica è proprio tanto tanto see you again e basta cioè la musica è proprio mi ci sta togando ah e poi c'è l'ultima che è di Austin Moon e si chiama All I Ever Need è troppo bella questa secondo me è difficile non vorrei sbagliare no perché andiamo i cani cioè Valentina è fissata con i cani e anch'io perché il cane ce l'ho se non avessi cacciato ve lo farei vedere quanto sei cattiva lo vuole prendere poverino eccolo pitto fatti vedere fatti vedere il bimbo tu sta carattendo perché il bimbo è un bebè perché vuoi fare sesso sempre facciamo miseria è un bambino appena nato Valentina è un bambino appena nato è giuramelo cosa significa il bambino appena nato con la nostra amicizia il bambino appena nato ha i capelli che mi fanno perché il bimbo appena nato pensaci perché vuoi un bambino no è un po' trento che è poi la stessa è un po' trento come ci siamo conosciute quando eravamo vicine e tu com'eri piccola quanto quanto eri piccola eri una bambina appena nata rispiegando ecco allora ha messo il bimbo mi sono rimasta male perché quando no tu ti si spieghi male perché allora in pratica eh appunto perché appunto noi ci siamo conosciute da piccole cioè nel senso ci conosciavamo proprio da piccole quando ero piccina così così lei mi va ria perché lei da piccola mi è venuta a trovare e tipo e tipo mi ha regalato tipo non so che cazzo dei legal guarda che figo così sembra una bimba basta e quindi e vabbè e quindi ci conosciamo da quando siamo piccine piccine già questa perché allora questa perché abbiamo conosciuto i nostri migliori amici al mare può essere però c'è un altro motivo ma perché siamo andati in vacanza insieme e la nostra prima vacanza è stata alla dispoli cioè al mare perché è stata la nostra prima vacanza insieme tra il Nobel e tipo io gli insegnavo i balletti alla primissima che venivo io stavo tipo dall'altro stabilimento e venivo nel suo per insegnargli i balletti avevamo dieci anni dieci tu dieci io undici che nane quanto è carina queste cose con le onde voglio tornare al mare tu vuoi tornare al mare la voglio tutti al mare la nostra lecce perché mai questa codesta codesta perché forse la dica proprio forse abitiamo attaccate e l'alberello questa non te la ricorderei mai è l'alberello vicino perché no perché abbiamo già di no sotto casa c'è una cosa strutturata c'è l'alberello questo qua perché è nà ama gli alberelli no perché Elena di secondo nome fa alberello no fa tarzan no aspetta se ci pensi è semplice cosa facevamo dentro l'alberello? sono valissime la base no vabbè raga per favore la base in pratica consiste vai ricorda ricorda dovete sapere che aveva poi di circa sempre dieci anni Porella sempre colpo su tutte le cose dieci anni le ha inventate lei e vabbè comunque è una ragazza che qua ti inventiva è stato il calcio all'estintore no all'estintore come si chiama? all'innaffia vabbè e quindi la base consiste nel era tipo una specie di prova prova di sopravvivenza di sopravvivere cioè sopravvivere nel bosco della natura e noi dato che avevamo il giardino sotto il giardino sotto casa e ora ve lo facciamo luccare perché è una cosa molto bella vai giardino sotto casa scelgo te si vede mi sta cadendo ahhh cosa fare? e quindi mi stavi coprendo la faccia e quindi questo e dato che abbiamo questo giardino sotto casa noi ne approfittavamo io mi mettevo a fare la la maestra e parlavo su come sopravvivere nel deserto in 80 giorni come fare il giro del mondo in 80 giorni cose a mangiare quali fiori non bere e io queste cose le leggevo su internet facevo tutta la pacchettura e questo me lo dice adesso e le leggevo su io pensavo che tu no vabbè che veramente sapevo tutta quella roba e quindi questa è la storia di queste boci vabbè boci abbiamo appena rivisto il video e ho notato che urlo tantissimo quindi scusate se vi ho stordito in questi 7 minuti io invece mi sono appena resa conto che avevo i capelli bruttissimi con questi cazzo di due quindi una cosa se siete youtubers non guardatevi il video prima di finirlo perché rischiavamo di rifarlo quindi noi siamo un nederi immagino questo era il video spero vi sia leccato che è una parola di Valentina non so dove è uscito leccato nell'ultimo video ha detto nell'ultimo video che abbiamo fatto insieme quello dove alziamo i foglietti ha detto spero vi sia leccato è una genialata mi piace troppo speriamo vi sia leccato e mi scuso per questa assenza durata ormai 6 giorni solo che allora vale si scusa della sua assenza durata 2 anni a parte scherzo lì praticamente non sono questi 6 giorni non sono stata su youtube perché mi è venuta la febbre quindi non sono riuscita a filmare i video si si dicono tutti così ti giuro allora io che te dovrei di? regalo spenta vale stava facendo lo struzzo speriamo che questo video vi sia piaciuto l'abbiamo detto per la decima volta ma va bene e niente ciao ciao ciao